Allora diciamo che il film è nato da una mia idea, da un'immagine che ho visto un giorno che ritornavo in macchina e fiancheggiavo il Po, a un certo punto ho visto proprio una spiaggia dove c'era una coppia, c'era proprio questa altalena, che l'ho messa anche nel film, dove c'era questa ragazza con quest'uomo in questa giornata ventosa, mi sono chiesto chi sono questi due, ho pensato erano amanti, mi è rimasta impressa questa immagine, poi non è che è partita subito, in quel periodo stavo vedendo un mio amico che stava soffrendo per una passione che aveva vissuto e questa è stata un po' la molla per farmi dire, vorrei fare un film su un incontro, però non su una storia d'amore, un incontro forte, un incontro di energie, un incontro dove non hai bisogno di raccontarti o di dirti, è proprio un'attrazione fisica, basato molto su un'attrazione fisica e quindi ho buttato giù un soggetto su questo incontro, comunque già nel soggetto c'era lui che faceva il poliziotto, lei che arrivava in questa cittadina di provincia che ancora non si sapeva qual era, poi lì a quel punto dopo che ho sviluppato questo soggetto ho iniziato un lavoro insieme con Angelo e giustamente Angelo ha messo dentro un elemento forte, nel senso ha detto mettiamoci che questa attrazione è contrastata da un senso di colpa, perché essendoci un senso di colpa è più forte l'attrazione ma anche il fatto che i due protagonisti non riescono a vivere questa passione. Il film inizia con una rapina, con Leonardo il protagonista, Adriano Giannini, è nel tentativo di sventare questa rapina colpisce per sbaglio una ragazza. Dopo un po' di tempo, in riva a questo lago, in un giorno di pioggia, arriva questa ragazza bionda, Sandrine, che comincia un po' a tampinarlo, a perseguitarlo. E poi scopriamo che invece questa ragazza ha uno scopo, però ha uno scopo negativo nei suoi confronti contrastato da quello positivo, perché poi scatta anche lei un'attrazione nei confronti del personaggio di Leonardo. Questa è un po' la trama, ma lo scopo vero e proprio già in fase di scrittura, poi si è sviluppato molto in fase di regia. In fase di scrittura era proprio legarci e costruire questa storia più su un aspetto visionario, di immagine, fatto di silenzi, di sguardi, di cose non dette che di cose dette. E poi devo dire che, come succede spesso, quando sono andato al nord a fare i sopralluoghi e ho scoperto Mantova, lì è stata una grande scoperta, il contrasto tra questa città Mediovale, messa in mezzo a questo lago, in contrasto con questi capannoni industriali abbandonati, dove negli anni 70 c'era la grande classe operaia, quindi per me rimangono affascinanti, e questa anche grande raffineria di petrolio che fa molto a contrasto con la città Mediovale. E ho pensato subito che era l'ambientazione giusta per questa storia. Poi naturalmente quando si va lì, io ho un po' in quasi tutti i film, la scenografia, il paesaggio diventa sempre protagonista, perché credo che al cinema, in televisione no, ma al cinema è bello raccontare anche il paesaggio in cui si muovono i protagonisti. Devo dire che, non tutto, ma gran parte del cinema italiano di oggi a me mi sembra di vedere una fiction al cinema, specialmente, devo dire, nelle nuove generazioni, perché le nuove generazioni probabilmente sono molto condizionate dalla televisione, dalla fiction e quindi poi riportano lì. E non è un caso, devo dire, che forse i film di maggior successo sono quelli che si avvicinano di più alla fiction televisiva, i film commerciali, diciamo. Il cinema per me è altro, il cinema va visto al cinema, non va scaricato sul computer, non va visto sul computer, né sui telefonini, diciamo a malapena in televisione, proprio se non vuoi vedere il testo, però il cinema è veramente, la sala cinematografica è il luogo deputato per vedere un bel film. Perché il cinema non è solo dialoghi, il cinema è musica, è movimento, è rumori, è la vita, è la vita che un regista, un autore tenta di ricreare in quella storia che fa. Io faccio un grande lavoro con gli attori e fare un grande lavoro con gli attori significa, prima, diciamo, la costruzione dei personaggi, perché comunque il personaggio in sceneggiatura si è descritto, ma spesso e volentieri è poi insieme all'attore o all'attrice che si dà corpo a quel personaggio. E dopo questa prima fase, la cosa che a me piace è quando scelgo un posto dove andrà girata quella scena, vedere come gli attori che diventano quei personaggi vogliono muoversi all'interno di quella scena. Fatto questo, io a quel punto decido come inquadrare questa scena e come si muove la macchina da presa. Quasi sempre è come se io un po' in una situazione, per esempio in Sandrine e la Pioggia ci sono molte situazioni a due, diciamo, perché loro due sono i protagonisti. Quindi mi piace un po' l'idea come se io nella vita, mentre loro discutono, litigano, fanno, come mi voglio muovere intorno a loro quando sento il momento di avvicinarmi, quando forse un po' mi devo allontanare, se voglio girarci intorno, se ho bisogno di sentire in che spazio si trovano. Se io dovessi spiegare perché certe volte scelgo come entrare in una scena o perché ho deciso di utilizzare quelle inquadrature è un po' anche inspiegabile per me, perché sono molto istintivo. Io per esempio non faccio storyboard, spesso e volentieri decido come riprendere una scena lì, lo stesso giorno. Mi piacciono molto le atmosfere di Lynch, le cose non dette, le cose misteriose, le cose che a volte si lasciano sempre un po' lì, lì si comprende e non si comprende. Forse se c'è una piccola influenza può essere questa, cioè certe atmosfere un po' alla Twin Peaks, quella aveva due valenze quella scena lì, questa è stata proprio una scena che abbiamo costruito veramente insieme io e Angelo. Una è una valenza diciamo di scrittura cinematografica e dall'altra c'è un po' un po' una voglia, questa forse fa parte anche di me, non so, il momento del ballo, della danza, dell'incontro, per me è sempre stato un momento di grande aggregazione, la danza aggrega. Mi piaceva questa situazione intanto di questo capannone abbandonato, così pieno di vita negli anni 70 e adesso dove ci vivevano questa decina di barboni, quindi questo contrasto forte. E dall'altra volevo fare una scena forse anche un po' onirica, surreale, chiamiamolo questo finto matrimonio che lei è in scena da una parte e dall'altra quella è la punta massima del loro incontro, infatti subito dopo c'è la discesa, c'è il distacco, come a dire Sandrine lo trascina fino in senso metaforico un po', un po' agli inferi e poi lo abbandona naturalmente. Ecco c'è un po' la metafora di tutto questo da una parte, dall'altra c'è poi un'altra cosa che è quella è tra le righe, c'è un critico però che l'ha individuata, ma ci ha fatto molto piacere che quando Angelo l'abbiamo scritto ha detto tanto non lo capirà nessuno questo, invece lui l'ha intuita che in fin dei conti Sandrine è la Maddalena, è un po' il personaggio femminile che incarna la Maddalena, che nel gergo cattolico è un po' considerata la puttana, invece in termini non religiosi è la donna, la donna forte che spesso e volentieri spaventa l'uomo perché l'uomo non riesce a gestirla, a capirla, a sottometterla, c'è anche un po' questo in un certo senso. Molti dicono che la vera rivoluzione è la normalità, io non sono d'accordo, io invece penso proprio che l'essere umano nella normalità tendenzialmente si annoia, l'essere umano ha bisogno di emozioni, ha bisogno di sognare, ha bisogno di sensazioni forti perché fa parte proprio della natura umana, quindi io penso che un po' questo dovrebbe essere anche il ruolo che è il cinema, nel senso quando uno spettatore va al cinema, intanto si va al cinema per ridere, per piangere, per emozionarsi, per spaventarsi e credo che lo sforzo specialmente nostro di chi ha la presunzione di voler raccontare una storia in forma cinematografica, è proprio che lo spettatore va a vedere una storia che forse amerebbe vivere anche lui, oppure a cui assiste, ma che non fa parte della normalità di tutti i giorni. Quindi io ho creato un po' un contrasto tra questi personaggi che comunque hanno una loro vita normale, cercano di costruire una normalità rispetto a questa ragazza che irrompe nella vita volutamente giovane, perché anche quello quando abbiamo pensato al personaggio di Sandrine e Angelo abbiamo detto non può avere più di 22-23 anni una che ha un atteggiamento così, ed era questa la forza, questo incontro di quest'uomo, diciamo quarantenne, che incontra questa ragazza e lo tira fuori da questa sua normalità e da questa sua finta forza. Non è un caso che io presento il personaggio di Leonardo come una specie di serpico, velocissimo, con la pistola, quindi un poliziotto e così, perché mi piaceva molto il contrasto dopo di raccontarlo invece in tutta la sua fragilità di uomo. E quindi c'è una battuta nel film che dice Sandrine, gli dice proprio a lui, che lui dice tu non sei normale e lei gli risponde, ma perché a te piace la normalità? Probabile che Angelo abbia portato all'interno di questa storia che io gli avevo proposto di scrivere a quattro mani, diciamo un po' il suo mondo e quindi calcolando anche che Sandrine è arrivato dopo sfiorarsi, potrebbe essere una versione più forte, più dark di sfiorarsi e quelle un po' sono le due anime tra me e Angelo, come siamo anche nella vita, io sono un po' più estremo, lui è un po' più sorgnone, io sono un po' più scuro, più nero, per certi aspetti, più selvaggio, lui più dolce con le donne, insomma siamo un po' un contrasto così, che poi sono anche gli aspetti dei nostri due film. Sara Forestier per me è un'attrice straordinaria, io quando ho scritto Sandrine già nella sceneggiatura comunque per le esigenze di Copione, lei era una che arrivava da Parigi, dalla Francia, quindi ho sempre e subito pensato che devo prendere un'attrice francese, ho anche visto un po' di nomi, di cose così, poi un giorno per una casualità sono andato in videoteca e ho trovato questo film che era Le Schive, la schivata di Chesis, che è il primo film di Chesis, dove Sara Forestier è la protagonista, ho visto questo film straordinario, tutto ambientato nella Berliet parigina e lì ho visto lei, la Forestier, che infatti lei vinse con quel film il premio Cesar come migliore attrice rivelazione e aveva 17 anni, quando l'ho vista ho pensato subito che lei era l'attrice perfetta per incarnare un personaggio come Sandrine, quando abbiamo scritto il Copione l'ho rintracciata, in un paio di settimane lei mi ha risposto, sono andato a Parigi, siamo incontrati e lei mi ha detto se fai il film io questo personaggio lo voglio fare, poi è passato più di un anno da questo nostro primo incontro, sono riuscito a mettere in piedi il film, lei è venuta un mese prima delle riprese perché voleva proprio studiare insieme con me, perché era un personaggio anche abbastanza difficile, quando si fa un personaggio un po' in bilico sulla follia si può rischiare di diventare ridicoli, insomma è un po' complicato e devo dire che lei ha costruito, molto era già in scrittura, ma lei ha dato molta personalità al personaggio di Sandrine, si è rivelata per me un'attrice di grande talento, tanto che quest'anno lei ha vinto il César come migliore attrice francese e lei adesso in Francia è esplosa, è una vera star, devo dire che questa cosa, io sono stato fortunato ad avere l'intuito di prendere lei e poi il fatto che lei sia la protagonista, già i francesi l'hanno preso e uscirà anche in Francia, fortunatamente con una formula diversa, lì c'è una vera distribuzione, quindi uscirà con 200-300 copie, quindi con una grande distribuzione, però è un'attrice straordinaria che arriverà molto 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 in alto.